Dopo un fine settimana caratterizzato da instabilità e tempo variabile in tutto il territorio vicentino, dalla seconda parte della domenica è tornato a far capolino il sole grazie alle prime folate di vento, escluse precipitazioni nel vicentino e in generale in Veneto. Tra le ultime ore della notte e la mattinata di lunedì si sono fatte più insistenti le raffiche di vento nelle previsioni di Arfab Veneto per passare poi da forti a moderate nel corso della giornata fino a scemare del tutto. Per il momento non si segnalano danni e in conseguenza delle sferzate d'aria particolarmente intense tra le 7 e le 9 del mattino, ma si attende il report dei vigili del fuoco. Per quanto riguarda le temperature, minima in contenuto aumento sulle zone pianeggianti per la giornata di lunedì, non ci saranno spostamenti significativi in pianura, in aree di montagna si annuncia una bassa percentuale di possibilità di accumuli di nubi e precipitazioni piovose, ma solo a carattere locale.